Si avvicinano le regionali, il PD come si sta preparando, le candidature ancora da finire di decidere, intanto si muovono i competitor, pare che il candidato della Lega Nord accorpi anche il candidato di Fratelli d'Italia. Io questo non la trovo una gran cosa perché si tratta di un candidato, quello della Lega Nord, che arriva da Milano, non ha alcuna esperienza amministrativa in Toscana e può vantare solo il simbolo, di sventolare quel simbolo che adesso è sovraesposto, poiché Salvini è molto ospitato in tutte le tv nazionali. Ecco, questo mi sembra poco serio da parte della Lega Nord, a fronte di un sacco di amministratori, anche del centro-destra, che magari lavorano e avrebbero più titolo a candidarsi a guida della regione. E il PD come si sta muovendo? Perché sulle liste ancora sembra ci siano dei confronti piuttosto aspri. Ci sono, il PD è una grande comunità, ha molti iscritti, ha tanti militanti e tante persone che hanno le competenze adeguate per potersi presentare in Consiglio regionale. Ovviamente gli organi interni del partito dovranno fare in modo di comporre le liste perché i posti sono limitati, non sono per tutti, quindi è normale che ci sia un po' di frizione. E di legittime aspettative. Sarà il partito, in questi giorni comporrà le liste, e io sono sicuro riuscirà a restituire delle liste che saranno rappresentativi della società, in termini di fasce d'età, giovani o più adulti, donne. Ci saranno anche diverse sfaccettature per quel che riguarda la vita economica e sociale. Io penso che il PD metterà in campo uomini e donne rappresentativi della società toscana. E questo ovviamente passa attraverso un momento di confronto che può essere anche delicato. In brevissimo, temete l'astensione come successo in Emilia Romagna? I fatti che crearono l'astensione, come fatti di illegalità, malversazioni, ruberie, non si sono verificati in Toscana. Quindi io spero che comunque l'elettore di Toscana questo ne tenga conto. Siamo una delle regioni più virtuose, anche perché riguarda la spesa pubblica o il contenimento delle spese della politica. E io voglio sperare che di questo ne tenga conto e che partecipi. Da politico, da persona che si impegna da molti anni in politica, voglio arrivare persino a dire non importa che voti destra o che voti sinistra. Io ovviamente sono un candidato del Partito Democratico e spero che tutti mi vogliano scegliere per rappresentarli. Però la vera sconfitta sarebbe davvero la mancata partecipazione alle elezioni.